Ciao a tutti, sono Julius Fan di YouTube Vorrei partecipare al concorso che... Che appunto YouTube... Ciao a tutti, sono Julius Fan Vorrei partecipare al concorso di YouTube NextUp Che mette in palio ben 20.000 euro Perché... Ehi, ti senti pronto? Sei sicuro di volerlo fare? Ci potrebbero essere delle perdite Lo so Ma per me è importante Una volta entrato non potrai più tornare indietro Ma questa non sembra la serie di YouTube Carico il video Leggente metti mi piace E l'è fatta Come pensi avresti di fare? Era una tua responsabilità Ci farei ammazzare tutti Giulio, ma che ti capisci? Yes Io non ti riconosco più Di un po', ma... Com'è che spenderesti questi 20.000 euro? Beh, in strumentazione Sveglia ragazzo Siamo nel ventunesimo secolo Questa è la mia vita E faccio quello che voglio Dio a tutti Di cliccare Mi piace Non ce la prendai Non capisci l'importanza di quei soldi? Non capisci l'importanza di che Mi piace Non capisci l'importanza di che L'importanza di che E la mia vita Grazie a tutti.